Alla signorina Giovanna, ex allieva mia, nonché al signor Annibale, padrone dell'omonima trattoria, personale urgentissima, nonché riservatissima, mi pregio darvi comunicazione del mio fatal decesso della mia fine infelice avvenuta mediante erogazione di gas, gentilmente concesso dalla romana gas distributrice. Ecco il motivo, niente affatto futile, mi sono accorto che son proprio inutile, ma proprio sì, 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 inutile io sono, sì, sì, inutile io sono. Sono più inutile di un buco in una tasca e di chi venda frigoriferi in Alaska, d'una tessera dell'Enal con ogni volta che la dopri giunto al cinema tu scopri che valeva il giorno prima ed oggi no, guarda un po', guarda un po', ieri sì, oggi no. Sono tanto inutile, più inutile perfino d'un capitano di marina a San Marino, d'un itterico in Giappone, d'una sega a resegone, d'una bete alla betone e d'un cefalo in pensione a Cefalù, giù per su, giù per su, su per giù, su per giù. Sono sfortunato da che son nato, perché son nato un diciassette venerdì, ed ho perfino, come padrino, un peruviano che però imperuperi. Sono più inutile di un giglio nelle steppe, sono più inutile perfino di Giuseppe, questo povero canario che paziente è solitario, senza limiti d'orario, spedelissimo gregario, ognor mi fu, pure tu, pure tu. prendi il volo e va a cercare la libertà, se ci sta, se ci sta. ed annuncia ai cherubini che tra poco il professore arriverà. grazie a tutti.